Ecco il simulatore di maremoti più realistico al mondo costruito nel centro di ricerca di Wallingford nella Contea Britannica dell'Oxfordshire. È stato progettato per capire gli tsunami e sviluppare tutti gli strumenti necessari a fronteggiarli. Il dispositivo costituito da una cisterna lunga 70 metri ha permesso di riprodurre in laboratorio e per la prima volta la forza devastante delle onde provocate da un terremoto sottomarino.